Sarà una settimana caratterizzata da tempo stabile e soprattutto molto mite per il periodo, a causa dell'espansione ulteriore dell'anticiclone delle Azzorre verso l'Europa centrale e anche l'Italia. Fra eccezione una residua instabilità sulle estreme regioni meridionali, ancora interessate da una blanda bassa pressione che porterà qualche rovescio temporale in primis su Sicilia e bassa Calabria. Da segnalare inoltre nella giornata di martedì una temporanea variabilità al nord-ovest con qualche pioggia possibile essenzialmente sul comparto alpino. Come dicevo temperature ben oltre le medie del periodo tanto che torneremo a raggiungere picchi quasi estivi soprattutto nella giornata di giovedì quando dalla cartina alle mie spalle potete vedere sono attese punte di 26-28 gradi sulla Val Padana ma oltre 25-26 gradi anche sulle centrali tirreniche. Qualche grado in meno invece a sud ma con clima comunque mite durante le ore diurne. Attenzione inoltre alle marcate escursioni termiche perché di notte le minime continueranno a scendere sotto i 16-17 gradi e quindi come di solito in questi casi si consiglia quello di vestirsi a strati. Ma per tutti gli ulteriori dettagli e aggiornamenti vi ricordo di scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.